Ilaria Cucchi sa benissimo quanto è importante la pubblica denuncia e quanto al tempo stesso è dolorosa, sa benissimo quanto è importante non essere lasciati da soli, dalla società ma anche e soprattutto da voi giornalisti che siete la nostra voce. Siamo qui oggi con il senatore De Cristoforo, proprio in sostegno della famiglia russo per non lasciarli soli. Sappiamo che a breve si chiuderà l'udienza preliminare, inizierà un processo e abbiamo fiducia nella magistratura, nella giustizia e ci auguriamo che questa persona che indossa una divisa ma che non rappresenta l'arma dei carabinieri venga chiamata a rispondere per il fatto gravissimo di aver ucciso un ragazzino. Perché si parla della morte di un ragazzino, qualunque altra cosa possa essere detta è soltanto una scusa per distogliere l'attenzione dal problema vero. Voglio ricordarvi che Stefano Cucchi era stato arrestato perché accusato di spaccio. Diciamo che Ilaria Cucchi è l'esempio vivente della parte sbagliata dello Stato, quella che non solo ti abbandona, ti volta le spalle ma diventa addirittura a volte il tuo peggior nemico. Però ricordiamoci che esiste anche la parte giusta, buona dello Stato, quella che ha portato alla condanna di tutti i responsabili per la morte di Stefano Cucchi e per i depistaggi. Noi in quella magistratura crediamo. C'è fiducia ovviamente, abbiamo estrema fiducia, abbiamo speranza, ma ribadisco l'appello più grande lo rivolgo a voi giornalisti, non abbandonate questa famiglia, tenete alta l'attenzione su una vicenda che altrimenti rischia di finire come tante altre, vi dimenticato io.